abbiamo delle magliettine bellissime perché perché ci occupiamo di cani di cani e soprattutto di recupero di boxer che fanno un lavoro stupendo quindi mi raccomando se anche voi riuscite a dare una mano a questi ragazzi sono bravissimi fatelo perché è importante giusto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti